bene ancora il nostro vermuccio di rimini e buongiorno nuovamente negli scorsi video abbiamo visto le due canne le new entry le altre sono state consegnate a chi di competenze e qui vedremo le due nuove canne in azione anzi mi è rimasta l'elisium che utilizzerò anche nel tempo chiaramente ora andiamo a lanciare vento chiaramente sembra essere diminuito tantissimo non dovrebbe esserci molto vento oggi è isa dai vogliamo andiamo a lanciare quindi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.